aiutarle a dividerselo, lupetti? ci penso io! se qui abbiamo un solo divano e tre galline dovranno dividersi uno, due, tre un cuscino ciascuna ti amo, Antonio oh cielo qui abbiamo quattro uccelli con il singhiozzo hanno bisogno di un po' d'acqua! ma c'è solamente una brocca d'acqua quattro uccelli e una sola brocca ci servono uno, due, tre, quattro bicchieri l'acqua qui abbiamo cinque calabroni chissà che cosa hanno bisogno di condividere ecco, ci siamo! un attimo! ti ci vorrà più che un voletto ricercato Maverick lupetti, qui è il capitano Mumble abbiamo un problema passo! ricevuto! qual è il problema? passo! abbiamo cinque piloti ma soltanto un obiettivo lasciate che me ne occupi io! c'è giusto il tempo per un'altra cosa un buggy abbraccio! oh! buggy abbraccio